Vincere è una seconda pelle e la vittoria la cerchi sempre come qualcosa di assolutamente necessario. Il basket mi ha reso un uomo migliore perché c'è un perimetro di gioco e le regole chiare. Perché all'inizio di tutto questo c'è sempre un bambino che sogna uno sport e questo sport gli insegna che è possibile. Questo sport per me si chiama basket e il basket non è qualcosa di diverso da quello che facciamo vivendo. Ecco cos'è stato per me il basket. Grazie a tutti.